Si attenuano le restrizioni in gran parte dell'area metropolitana, riaprono negozi a Pescari a Chieti e in altri comuni che entrano in zona rossa e da oggi tornano in fascia arancione e mentre la chiusura dei nidi e delle scuole dell'infanzia è stata prorogata con le ordinanze sindacali. La regione rivede al più presto la collocazione in fascia rossa del comune di Montesilvano, unico centro insieme a Città Sant'Angelo dell'intera area metropolitana Chieti-Pescara costretto a subire ancora pesanti restrizioni alle attività produttive con conseguenti perdite di fatturato. Lo chiede il direttore della CNA di Pescara Carmine Salce che abbiamo ascoltato che torna a lanciare un appello al governatore Marco Marsiglio. Con Andrea Berardinelli ci troviamo proprio al confine tra Pescara e Montesilvano. A Pescara i negozi hanno riaperto le saracinesche mentre Montesilvano rimangono chiusi a causa della permanenza in zona rossa. Sentiamo il direttore Salce e la titolare di un negozio di abbigliamento di Pescara. Quest'area è stata confermata nella zona rossa ma che non trova naturalmente nessun ristoro particolare rispetto al decreto che è stato approvato dal governo. Quindi noi temiamo che questa ulteriore penalizzazione, peraltro veramente molto particolare, quindi chiediamo alla Regione Abruzzo in qualche maniera di farsi carico di questa situazione per quanto riguarda il versante dei contributi per le aziende. Naturalmente non capiamo in una situazione particolare come quella di Pescara-Montesilvano, che è una unica città, di fatto c'è una continuità urbanistica, a Santa Filomena si interrompa la possibilità di aprire da parte di molte attività commerciali, mi riferisco ai negozi di abbigliamento, alle gioiellerie, insomma a quelle attività che in zona rossa tradizionalmente continuano a rimanere chiuse, mentre invece a 20 metri, da 20 metri in giù, queste attività hanno la possibilità di essere aperti. Come stanno andando le vendite? Allora, poche ore dalla riapertura devo dire che ho avuto movimento, c'è volontà di uscire, di entrare nei negozi, questo almeno mi fa piacere, dopo essere stati chiusi dal 14 febbraio ed è stata veramente una cosa molto molto pesante, devo dire questa volta da sopportare. Speriamo andando avanti che continuiamo con almeno qualche vendita sui saldi per poter togliere un altro po' di invernale che è rimasto completamente invenduto, perché ci hanno creato questa chiusura proprio a metà dei saldi, quindi abbiamo adesso il negozio con le due stagioni, la primavera che è arrivata e i saldi dell'invernale è ancora in negozio purtroppo. E come guarda al futuro? Spero che le cose iniziano a migliorare, però è molto molto dura, è difficile dire guardare al futuro. Io la collezione l'ho acquistata, quindi diciamo guardo con positività. Ora speriamo che almeno tra questi vaccini e un po' di regole fatte bene e soprattutto rispettate da parte della gente possiamo almeno iniziare a vivere con qualche piccola soddisfazione, ecco se riapre un cinema, riapre qualche piccola attività anche il nostro futuro inizia ad essere un po' più roseo.